Salussi, lei ha certamente ragione, anche perché, torno a ribadire, questa esperienza di governo nasce da un contratto, non è affatto altro, non è che ci sia una naturale sintonia di posizioni e di politiche economiche fra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Soltanto questa legge elettorale ha costretto forse ben diverse a trovare un perimetro ben recintato all'interno del quale trovare convergenza su alcune misure. Credo che sia misure importanti che, per esempio, si pongono l'obiettivo, dal mio punto di vista, di combattere sempre più l'economia del nero, l'economia che grazie al sommerso permette a tante parti di prosperare e proliferare. E se continuate a andare avanti con i condoni, tanti auguri, senatore Morra, visto che Salvini ne ha annunciato uno nuovo ieri, ha detto che la parola condo... Non è per niente ironico, mi creda. Per le persone in Italia che pagano le tasse e che vedono continuamente condoni su condoni, non è per niente ironia, non è per niente divertente. E le posso chiedere una cosa, io molto semplicemente, se siamo arrivati a oltre 130 miliardi di emisioni fiscali ogni anno, perché adesso è colpa di chi attualmente governa, è ovvio che bisogna combattere questi fenomeni. Certi governi non hanno fatto condoni, intanto per cominciare. Insomma, forse c'è qualche problema di memoria, però le voglio ricordare che per esempio noi adesso stiamo lavorando per una legge sul conflitto di interessi che sarà assai divertente per tutti quei soggetti che approfittando di questa mancanza legislativa potrebbero finalmente essere fermati dalla legge. Perché, torna a ripeter, questo conflitto di interessi che è un tema mitico non riguarda solo e soltanto un italiano. Io le sto chiedendo una cosa sul condono. Siccome Salvini oggi ha detto che la parola condono non è affatto una parola orribile, anche lei trova che sia una bella parola, una bella pratica? Io dico che gli italiani dovrebbero essere aiutati a capire che a furia di condoni e sanatori questo paese non avrà via di scampo. Noi dovremmo invece dire basta a qualunque formazione. E avete il vostro alleato di governo che lo dice, che lo fa. Può dire tanto ed è giusto che dica tanto, solo che poi le cose che si realizzano, si realizzano insieme. E pertanto dal nostro punto di vista, condoni e sanatori sono assolutamente irricevibili. Invece non ho capito il passaggio sul conflitto.